Salve teomne est discipuli! Ecce capitulum quintum decimum, qui nomen est magister et discipuli, et ic in immagine abbiamo Lutus, ubi sunt tres discipuli, Sextus, Titus et Marcus, et unum magister, Diodorus magister, est homo qui docet, et Lutus est locus, ubi magister docet et discipuli audiunt. Marcus, librum et tabulam et cetras, res ferenc in Tusculum ambulat, ad Tusculum ambulat. Illic est lutus puerorum, multi pueri mane in ludum eunt. Magister, ludi est virgrecus, cui nomen est Diodorus, Marcus magistrum metuit, timet. Diodorus enim magister severus est, qui discipulos suos virga verberat. Aut pulsat. Eum modo magister severus, discipulos improbos punire solet. Solet, punire, improbos, discipulos. Discipuli sunt pueri, qui in ludum eunt. Marcus et Quintus sunt due discipuli. Ali discipuli sunt Titus et Sextus. Sed ian videmus Quintus non est in Ludo, quia se grotat. Sextus, qui ante Marcum et Titum ad Ludum advenit, primus Ludum intrat. Sextus solus est, nam cetere discipuli, nondum ansunt. Nondum est aduc non sunt. In Ludo. Magister, intrans. Sextum solum in Sella sedenta en videt. Ecce Sella. Est Sella. In italiano Sella ovviamente vuol dire un'altra cosa. Sella è ciò che vedete, quindi sostanzialmente una sedia. Sedia è ciò su cui uno si siede, letteralmente, no? Quindi infatti sedentem, sedeo, vuol dire sedersi. Sextum de Sella surgent, magistrum salutat. Salve Magister! Magister. Salve, sexte, considere. Come abbiamo visto l'altra volta che in latino c'è una differenza tra il verbo che indica indossare, mentre stai indossando un vestito e indossarlo, c'è una cosa simile per quanto riguarda il sedersi. Perché c'è sedet, per dire che uno è seduto, ma considere vuol dire fare il movimento di sederti, cioè inizia a sederti, no? E poi vediamo, ci stanno anche altre tipologie di verbi per indicarlo. Sextus in Sella considit. Discipulus tacitus ante magistrum sedet. Quindi prima considit e poi sedet. Magister interrogat, «Curtus solus est, sexte?» Ego solus sum, quat c'è te le discipuli omne sab sunt, respondet Sextus. Exclamat Magister, «O discipulos improvos!» Exclamare, «O discipulos improvos!» Dicit, «O discipulos improvos!» Exclamare, secut in lingua italica. Sextus, «Num ego discipulus improvos sum?» Magisteri, «Immo!» Tu propus est discipul, sexte, at Marcus, et Quintus, et Titus, improvisunt. «Num?» «Immo!» Hic Titus ad Ludum advenit, et Januam pulsat, antequam intrant. Discipulus non statim intrat, sed Primum Januam pulsat. Tum Ludum intrat, et Magisterum salutat. Tum, et sicut deinde. Ego, Januam pulso, Tum deinde, Ludum intro. Et Magisterum saluto. «Salve, Magister!» Magistero, tite! Sextus iam ad est, Titus. At Marcus et Quintus nondum absunt? Tace, puer! Claude Januam et conside. Aperite libros pueri. Sextus statim librum sum aperit, sed Titus, qui librum non habeo, non abet, ego inquit librum non habeo. Quid? Sextus librum sum abet, tu librum tum non abes, cur librum non abes. Librum non habeo, quod Marcus meus, librum abet. Qui, come vedete, come vi ho già anticipato, si introduce quelle che sono tutte le persone che in realtà non abbiamo visto fino ad adesso. Partendo da Apeo, che è Apeo, Apes, Avet, Avemus, Avetis, Avent, che sono ovviamente prima, seconda, terza, prima, seconda, terza, e poi tutti quanti gli altri verbi che vengono presentati qui per la prima volta, come potete vedere, nella loro coniugazione completa. Per noi sarà un po' una cosa nogliosa, però evidentemente per chi ha seguito in maniera, diciamo, perissequa il metodo, viene introdotto adesso per la prima volta. Torniamo quindi alla nostra vicenda. Postitum Marcus Adludum Advenit Nequeis Ianuam Pulsant Antequam Intrat Marcus Statim Intrat Nec Magistrum Salutam Statim Statim C'è una famosa un famoso incipit, no? Era una notte buia a Tempesto Salle improvvisa che è già uno uno sparo. E questo è più o meno la stessa cosa, cioè Marcus Statim Intrat cioè entra immediatamente senza salutare il maestro così proprio di getto. O Marce Inquet Diodorus Curtu Ianuam Non Pulsas Cum Adludum Venis Nec Me Salutas Cum Me Vides E qui sostanzialmente come vedete in una frase sola vi mette la seconda persona singolare di tutte quattro coniugazioni. At Marcus Ego Inquit Ianuam non pulso cum Adludum Venium Nec Magistum salutamus salutamus Comeum Videmus Non Ne Verum dicimus Magister E qui prima persona plurale Magister Vos Verum Dicitis Dicitis Quindi che cosa che cosa sarà Virga secondo voi Con no quindi complemento di modo diciamo in realtà strumentale Tergum Tergum posterior pars corporis ve la dice in maniera carina Tergum dolet Marco Neque il lacrimat nam lacrimare puero romano non convenit non convenit lacrimare puero romano Marcos Clamat Ehi Iamsatis Est Desine Magister è rimasto desine in italiano desinare ok è molto poco utilizzato però esattamente in questo caso più lesinare in realtà che desinare ma vabbè è il contrario di incipere ok incipit desine Magister puerum verberare desinit et ad sellam tuam redi inquit atque considere redi sarebbe red ire ok e quindi rursus ire Marcus ad sellam tuam redit neque considit sed tacitus ante sellam stat audis ne marce ego te considero iubeo cur non considis interrogat magister non considero quod sedere non possum cur sedere non potes sedere non possut quod mi dolet par stergi inferior in quà sedere soleo ok ec ec verba audientes titus et sextus rident quid ridetis tit et sexte ridemus quod Marcus dolet tacete e e am corporis partem nominare non convenit sed up est frater tu smarce is dom est apod matrem suam quintus dicit se egrum esse questo dicit se egrum esse è un modo per praticamente fare un discorso indiretto utilizzando appunto un verbo dire poi l'infinito e di conseguenza quindi una sorta di accusativus scusate infinitiva con l'accusativo si egerest in ludum ire non potest at vos bene valetis iam aperite libros marcus meum librum abet quid tu librum titi abes marce egu eius librum abeo quod is meum malum abet redde mii malum meum tite titus ridens malum tibi redere non possum id enim iam in ventre meo est marcus iratus titum pulsare incipit sed magister desine marce inquit titus tibi malum dare non potest at ego tibi malum dare possum nisi ic et nunc tito librum reddis ok qui è un gioco di parole evidentemente tra ma il malum inteso come insomma il la mela ok e cose cattive che abbiamo malaresso infatti chi vi dice no marcus tito librum reddit reddit vuol dire re più do dare nuovamente reddit è anche il titolo forse la conoscerete di una famosa piattaforma discipuli magistro irato ego non dormio immo vigilo et te audio magister item sex sust titus neque nos dormimus vigilamus et nomnia verba tua audimus bene recitas stiodore bonus magister verum est quod dicitis ego bene recito ad bonus sum magister ad vos male recitatis ac mali discipuli estis immo boni discipuli sumus bene recitamus tacete ubi estis pueri illudo sumus verum dicitis illudo estis non dormi in lectulis in lectulo dormire ilicet icchilludo non licet dormire lectulus come vedete et parvus lectus e qui abbiamo anche quod id quod quod recito no sarebbe ciò che recito in italiano si può dire semplicemente in greco come quod magister iratus discipulos virga verberat discipuli ei ei quid nos verberas magister vos verbero quodalio modo vos excitare non possum ad sella vostras redite atque considite discipuli ad sella suas rede neque considunt quid non considitis non considimus quod sedere non possumus quid sedere non potestis ergo vos oram totam taciti state dum ego sedens partem libri posteriorem recito nec enimis stantes dormire potestis qui 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 invece per ultimo la coniugazione di possum possum che come vi ricordate era un composto di sum e quindi ovviamente possum potest potest possumus potestis possunt altra l'infinito è pos più s che diventa posse e invece per quanto riguarda il verbo ire qui pure ce l'avete completa eo is it imus it is eunt ve lo zoomo in modo tale che possiate vederlo meglio non mi sembra ci sia tantissimo altro ve l'ho voluta fare tutta in una volta proprio per questo e giusto forse ci possiamo concentrare su due parole non ricordo se li abbiamo visti e sono li sottolineo se riesco vabbè e sono at qui eccolo qui at e tum tum forse l'avevamo visto at non me lo ricordo per quanto riguarda at sono ovviamente delle due parole che si utilizzano all'inizio di una frase per introdurla at è un sinonimo di ma e mentre invece tum mentre invece qualcosa del genere tanto so che me lo avreste chiesto però non lo avessimo visto è un modo per ovviamente in questi casi perché si parla di dialoghi per introdurre una minima variazione all'interno del discorso e renderlo un po' più diciamo leggibile ok e come vedete come abbiamo spesso detto qui c'è inquit o inquiunt più avanti che viene utilizzato quando molto spesso quando c'è un discorso diretto perché era tipico per quanto riguarda lo utilizziamo anche noi tizio disse questa cosa è molto importante e si utilizza inquit altrimenti un altro modo per fare un discorso diretto è come anche in italiano dire semplicemente il nome della persona due punti in questo caso ad sextum et titum cioè non si sta rivolgendo a tutti ma solo a loro mi sembra che ce ne fosse un'altra con vedete qui clamat altro modo ovviamente clamare indica parlare a gran voce poi c'è esclamare più avanti e ancora se non sbaglio che parte c'era anche digit questi sono vari modi per dirlo sono vari quasi sinonimi per introdurre un discorso diretto e non diciamo frenarsi di fronte al solito tizio dice tizio risponde in questo caso c'è tutta una serie Marco questo lui questo dice bla 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 allora Marco ta 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 e Giulio dice e così via e quindi si crea una sorta di variazio all'interno del discorso per il resto io la chiuderei qui quindi vi saluto qualsiasi cosa ovviamente fatemelo sapere e e niente buona giornata la chiudere